Salve a tutti i ferraristi e chi auspica un campionato 2024 più combattuto ripongono le loro speranze nella nuova SF24, l'ultima bella di Maranello. Nel 79 venne invece definita esteticamente tra le più brutte mai realizzate la Ferrari 312 T4 che invece si dimostrò vincente mondiale. Esordì alla terza gara di campionato il 3 marzo di quell'anno in Sudafrica e fu subito sfolgorante doppietta Wilneve Schecter ripetuta alla gara successiva a Long Beach ancora con Wilneve davanti al compagno di squadra da quell'anno approdato al cavallino. La 312 T4 era la risposta alla Lotus 79 che aveva dominato il mondiale 78 e alla nuova Lotus 80 con la quale venne estremizzato il concetto di wind car, vettura ala. Ma Colin Chapman esagerò, il telaio torceva mentre Forghieri trovò la quadra. Nonostante il motore 12 cd indipiatto non proprio propedeutico al miglior sfruttamento dell'effetto suolo. Per la prima volta la Ferrari ricorse massicciamente alla galleria del vento, sia quella della Pininfarina che come rivelò in seguito Forghieri o una privata a Stoccarda. Le fiancate furono allargate, le sospensioni ridisegnate, i freni posteriori erano entrobordo per diminuire le masse non sospese e assicurare più aderenza e motricità. In quel campionato l'inizio fu di marca Ligier con la Fit primo in Argentina e Brasile, mentre la seconda parte conobbe la supremazia della nuova Williams FV07, che con regazione e soprattutto Alan Jones infilò anche un filotto di quattro vittorie consecutive tra Gran Bretagna e Olanda, senza dimenticare poi la potente Renault Turbo. La Ferrari, sei vittorie complessivamente, prevalse grazie alla costanza di rendimento e alla sua proverbiale affidabilità, premiata anche dal regolamento che considerava i migliori quattro risultati per due parti di campionato. Tra i vari litiganti a godere fu il più regolare Jody Schecter, primo in Belgio, primo a Monte Carlo in volata su regazioni e infine primo anche lealmente scortato da Villeneuve anche a Monza, che assicurò matematicamente il titolo con due gare di anticipo. Titolo che sarebbe poi divenuto un miraggio per ben 21 anni. Ma la 312 IT4 è leggenda anche perché è legata alle imprese di Gilles Villeneuve. Come dimenticare l'epico duello ruota-ruota con la Renault di Arnua a Digione o l'intero giro su tre ruote a Zandvoord, che fece impazzire i tifosi. Una monoposto storica che ha corso solo 13 gare, essendo stata subito sostituita nel 1980 dalla pessima T5. A provare l'ebrezza della sua guida sono stati anche Jacques Villeneuve, figlio di Gilles, nel 2012, in un evento organizzato a Fiorano della Ferrari nel trentennale della scomparsa del canadese. E più recentemente, nel 2022, anche Charlie Clark, che, impressionato dalla potenza e dal sound, poi alla fine commentò, doveva essere una bella impresa a guidarla per un intero Gran Premio. Altre macchine, altra Formula 1. Grazie per l'attenzione, lasciami un like se il video ti è piaciuto e iscriviti gratuitamente al canale. Intanto puoi guardare subito questo video su un evento clamoroso, sempre della stagione 79. Ciao!